Io le cito quello che viene in qualche modo rimarcato come elementi che non devono essere contenuti nei film per evitare la censura. Battute o gesti volgari. Laboratori! Apportamenti amorali. Scene erotiche o di violenza verso uomini o animali. Gatto, non farlo! No! Accidenti! Scene che fomentino odio o vendetta. Ma fammi entrare, allora fammi entrare, e beh fammi entrare. Scene che presentino crimini in forma da indurre a limitazione o al suicidio. Lei pensa solo a queste categorie, non potrebbe andare in circolazione ormai quasi nulla. Lei pensa comunque più воды, non potrebbe vedere, non potrebbe essere video. No suure. Come anche qua.